Diamo il benvenuto a numero 5 e numero 6. 10 concorrenti, 250.000 dollari in palio, un solo vincitore. Siamo perfetti per questo gioco. Tutto quello che dovete fare è seguire le regole e correre. Ricordate, è un contest segreto. Pronto? Mai. Non crederai a cosa ho appena trovato. Ogni volta che ci fermiamo, il punteggio diminuisce. Ha provato a farmi cadere. Che è successo? Questo non fa parte della gara. Cos'è quello? Non lo so. Tutti gli altri rider sono scomparsi. Imprangerai di nuovo le regole. Siamo i prossimi. Senza quei soldi, sono morto! Chi sono loro? Che cosa dovrei fare? Io lo faccio per la mia famiglia, sono qui per questo. Se davvero tenessi a lei, non staresti qui. Voglio vedere di più! Non ci rimane ancora molto tempo. Tu che vuoi fare? No, tu che vuoi fare? Non fermarti. Corri. Aiutaci a far sì che lo show vada avanti. Qualunque cosa succederà. Ciao! Ciao! Grazie.